E' proprio un forte gamer alla scoperta della no build mode Volevo costruire ragazzi, è più forte di me No, io lo so, io lo so come finirà sta cosa ragazzi che io proverò a costruire Au, ciao, benvenuti sul mio canale Lo so, non ci beccavamo da tanto, soprattutto su Fortnite Però sono tornato, sto qua e oggi proviamo per la prima volta la no build mode, la zero build mode Ma le solite cose le sapete, iscrivetevi, mettete like al video e buttiamoci subito in game In Fortnite, premiamo X e vediamo cosa succede Sono molto preoccupato da quello che vedrò, ok Nessun filmato iniziale, strano dirla tutta C'è zero build squads ma io vado di zero build solo Cannot build in this mode, va bene, va bene Io non ho idea neanche delle armi che ci siano attualmente su Fortnite Mi sento proprio un pesce fuori d'acqua ragazzi, non gioco a Fortnite da due mesi Quante zone sono cambiate, cos'è sto coso, perché ci sono delle linee ovunque No ragazzi, non posso andare a Tilted O ci andiamo Ma che ci frega, che ci importa, ma sì Nadie è cresciuti a Tilted, questo faccione, porto di gamer Nadie è cresciuto lì, che famo? Lo buttiamo? Ma no Ma hanno distrutto di nuovo il palazzo, è il palazzo mio Ma è possibile che il palazzo mio venne sempre su di mira? Ma, ma perché? Io credo che mettersi in una posizione del genere In una modalità come la no build sia pessima come scelta Ma ormai io non sono proprio abituato Allora, come si corre? Calmi tutti Ok, così si corre e si salta e c'è la stamina Ok Così si scivola, come si scivolava? Ok Scivolare non ti fa, diciamo, perdere stamina È proprio un forte gamer alla scoperta della no build mode Volevo costruire ragazzi, è più forte di me No, io lo so, io lo so come finirà sta cosa ragazzi Che io proverò a costruire Ah, c'è qualcuno con il jetpack Che scelta particolare però quella di mettersi qui dentro Cioè, ora è un casino, come fanno? Eh, per esempio ora, no, quel tizio, come fa? Ah, corre giustamente Ho capito, semplicemente uno va dietro le difese correndo Eh, qualcuno mi sta arrivando in testa, tipo Uh, 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 ok, calmi Uh, però c'ho roba Ok, già due kill Buono, come il pane Oddio Ma ha morto ragazzi Mortissimo, mortissimo Se sopravvivo No, no, sopravvivo No, vedi nulla Iniziamo male, iniziamo male Allora, prima è andata male Lo ammetto Però possiamo fare meglio stavolta Sto cominciando a capire alcuni meccanismi Però, comunque ci proviamo Io ritornerei in una casa in realtà diversa rispetto a quella di prima Magari, esatto, passo solo da qui Cerco di entrare velocemente Non so se queste torrette, tra l'altro, siano utili Se convenga utilizzarle Boh, io non ne ho idea C'è una chest qui Perfetto La pigliamo Pure Non sia mai qualcosa di utile Vabbè Le solite è bene che ci accompagnano nella vita Buono Fardate Ma ti sono mancato Mi stai ridando tutta la sfortuna che non sei riuscito a darmi sti giorni Come funziona? Lancia razzi Evil rocket launcher Va bene Proviamolo Cioè se c'ha qualcosa di strano che mi spara flash a roba strana Oh, è normale Aspettate Devo provarlo Ah Searching for vehicles Ok Ok, buono Qualcuno che mi spara? No, mi ignorano tutti? Meglio così Eh sì, si ricarica tipo quello scudo Che strano Ok, non sopporto questo fucile Mi sono appena accorto che non mi piace per niente Ah, go, che una volta servivi Non più, grazie Non riesco neanche a guardare così in alto Uh, calmi Mi faccio male se vado Mammi, sorella Bello sto audio No, buono, buono Buono, buono Ciro Witek Perché? Insisto Almeno devo uscire da Tilted Insisto a Tilted Lo scherziamo, eh Lo scherziamo Ma se provassi ad andare sulla torre Dimmi che ce la faccio Dai Vabbè, non ci posso credere Per uscire pure quello brutto Preso pure quello brutto Ma come si sale su quella torre ora? Cioè, prima si costruiva Si doveva fare tipo Capito? Proprio l'impresa edilizia Ma ora? Il problema è che i ragazzi Che mo' stanno giocando Sono molto più consapevoli di me Su come si gioca una zero build Io Io sono entrato Ho fatto entro Spacco e scosciao Più o meno Insomma Cioè, nel senso Vabbè Gli edifici non cadono più La gravità non vale più su Che che Vabbè Anzi, fatemi sapere voi Perché qualcosa non è caduto Cos'è cambiato nella fisica di Fortnite Che io non so Cavolo Raga, mi viene ancora spontaneo rompere Per ottenere i materiali Mannaggia Eh, aspettate un attimo Su arpione io me lo leverei Mi porterei La spada Esatto E andrei così Ma questo Se qualcosa Uh Chill Chill What's going on? Si stanno a menare Arrivo Bella, brother Comunque questo fucile fa paura Ma che I blaster hanno fatto proprio La mega collaborazione Con Con Fortnite Allora Star Wars Pensavo avessero messo solo un paio di cose Ah, ok No Ma davvero Ah, ok Quello è un nemico però Va nella rift Voglieva costruire Che ha fatto? Sono confuso Ah, ok Ma la copertura si può rompere Vabbè, easy allora Credo ce ne siano due Vediamo chi si fa male prima Ah, godo Ciao È partito con me Sembra che io sia salvo Apparentemente Ma sono ancora in safe Calmi Bella la mira Uuuuh Voi dovete staccarmi Con sti fucili Che voi siete inquietanti Vabbè Ma ruba la kill Va bene Ok Ok Dov'è? Dov'è si è nascond... Come fanno a nascondersi? Si sta a curare palese Palesissimo Ah, ok Che strano Fai dare così Ok A parte che sto perdendo pacchetti In una maniera scandalosa Cioè Sto allaggare brutto Però wow Che strano Fai dare così Ma è roba Di un altro mondo Raga È veramente Troppo Troppo Non ce la faccio Scusate se lo sto ripetendo 50 volte Ma Wow Che figata poi Dov'è la safe? Mamma mia Dall'altra parte del mondo No Non doveva succedere questo Panic Panic movement Grazie Ma poi tutti quanti Stanno utilizzando quest'arma Ma è così forte? Ma la safe è brutta 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 Ok Eh ma questo stava messo Peggio di me Eh sì raga Andiamoci Però devo comportarmi Come se ci fosse ancora gente Come sta messo sto jetpack? Come stai? Eh Siamo in 5 5 5 5 La gag non si è fama Boys Perché c'è un car armato? Fra? State out Siamo in 3 Ma uno di questi 3 È un car armato Non ho idea di come funzioni Il ragazzo Che ha armato un fame Ho visto delle clip Di gente Che lo distruggeva Ma Secondo me Ci vuole un minimo Di capacità Come favo? Cioè cosa? Come si gestisce Un coso di quello? E il testo è utilizzato La rift con me E mo? Che si fa? Si fa tipo così eh? Dov'è quello? Aiuto ma è veramente Lo stiamo martellando in due E quel tizio Come me lo gestisco ora? E mo? E mo come si fa? Questo come Come lo elimino? Ma veramente L'ho fatto Ma cosa ho convidato? Prima vittoria reale Nel capitolo 3 Nella modalità no build Sì scusatemi Nella season 2 Capitolo 3 Ma è così? Ma che bello Questo Fortnite Ma è così solo perché Era la prima partita E' sempre così Oh signori Che dirvi Io spero di rivedervi In un altro video Lasciate un like Commentatevi Per il mio ritorno E soprattutto Iscrivetevi al canale Altrimenti perdete tutti i prossimi video Che arrivano su questo canale Vi voglio bene Un bacione boys Ciao a tutti i prossimi video Ciao a tutti i prossimi video Ciao a tutti i prossimi video